Dal 23 al 25 settembre 2011, a Firenze, si è tenuto il Festival dell'Energia sul tema l'energia intelligente. Ogni anno il Festival illustra, attraverso le voci dei maggiori esperti, i punti di vista locali e globali sul futuro dell'energia. Edizione dopo edizione, il Festival continua ad allargare i propri orizzonti, coinvolgendo un sempre maggior numero di ospiti stranieri. Numerose conferenze e talk show si svolgono contemporaneamente, interessando l'intero tessuto cittadino e richiamando l'attenzione di un vasto pubblico. Dagli Stati Uniti hanno partecipato il Dr. Samuel Baldwin, Chief Science Officer del Dipartimento dell'Energia di Washington, D.C., il Viceambasciatore Douglas Hengel e il Commissario Catherine Svinichi del Nuclear Regulatory Committee, illustrando le politiche degli Stati Uniti rispettivamente sull'efficienza energetica, lo shale gas e la sicurezza nucleare dopo Fukushima.